...tre settimane partirà nella consueta cornice del ciocco... ...di casa, non me ne vogliano gli altri... ...il direttore generale vi parlo da diverse stagioni con... ...Bertone, comunicazione Peugeot... ...ciao Filippo, buonasera a tutti... ...adesso sto parlando un attimo... ...del sottoscritto anche di Sport Italia e di Simotori... ...la storia del rally italiano... ...questo fine febbraio... ...ha conquistato il terzo successo consecutivo... ...questa è la sua seconda Dakar in carriera... ...dopo due titoli mondiali rally... ...ma soprattutto sì che come gruppo abbiamo... ...la Formula E dove con le vetture che poi noi produciamo... ...e le vetture che noi vendiamo... ...viamo a lanciare a marzo... ...quindi chiaramente con una GT sia 208 che 308... ...e che su una 308 sviluppa 272... ...la quarantesine... ...e che gli organizzatori hanno disegnato un percorso durissimo... ...ma neanche il percorso è impedito... ...leoni... ...parte anche con queste ispirazioni di Kamlo Sainz... ...immenso... ...l'esperienza nel nostro settore è molto importante... ...non penso che hanno esperienza... ...che hanno una macchina molto competitiva... ...è chiaramente avere la lotta, avere la sfida... ...è scalata, tentano fare troppo le ruote... ...alora Paolo, neanche i carabinieri riescono a fermarti... ...ti chiedono una battuta a te di quello che è successo ormai qualche mese fa... ...a Roma e poi lo chiedono anche al direttore Rosetta... ...ma è stata una giornata veramente bella... ...perché è stata emozionante, bella e ancora faremo questi corsi... ...per cui sono anche curioso di vedere il livello dei carabinieri alla Liga... ...attraverso lo strumento e l'arma dei carabinieri che istituzionalmente... ...rappresenta l'Italia in maniera... ...como manager italiani di guidare un gruppo francese... ...dai cavalli, quindi come dicevo Pocanzi... ...il massimo dell'espressione della tecnologia... ...e anche una valenza sociale, questo ci piaceva molto... ...la nostra presenza è importante, è importante come italiani... ...che permettono... ...è un'altra parte di scherzi... ...quasi perché sui 14 anni si è ritrovato in consecutivo quasi... ...definire la squadra più forte nella storia dell'Italia italiana... ...con i Fabri, con Paolo, con Anna, con te, con Ingenio Franzetti prima insomma... ...speriamo di continuare ad essere la squadra più forte... ...perché siamo già guardando al ciocco quello che è stato... ...ma ce lo siamo già dimenticati e forse è la forza di questo gruppo... Ah, intanto sono contentissimo di essere qui per il suo mondo Anna... ...per questo tenga l'intenzione, perciò Italia, il Birelli e il Geniglio Italia... ...della Birelli, Terecchio e Matteo Romano... ...sappiamo che possiamo migliorare tantissimo e il tanto possibile... Giuseppe Bricciotto ovviamente accanto a Marco Polara... ...quest'anno sarà una sfida interessante... ...perché tre vetture sono impegnative da gestire... ...a spostare lo stacolo e cercare di vincere con tre e con quattro pare... ...all'abito... ...un R5... ...ha una coppia affidata con Pricciotto... ...c'è poi... ...cambiate canale la presentazione del team Peugeot... ...e iniziamo... ...a qualche istante vi ricordo che mostreremo la piano di Tommaso... Damiano... ...arrivi come pilota ufficiale... ...dato... ...ha del vinto il trofeo Peugeot Competition Top... ...con la 208... ...è il trofeo Competition... ...che consiglio veramente a... ...a compiro... ...no... ...niente persone intorno... ...negative... ...quindi... ...è... ...tutto positivo... ...infatti vediamo... ...sì beh... ...lo vittorio è sempre un obiettivo... ...per quanto mi riguarda sarà un obiettivo anche... ...cercare di... ...apprendere tanto da una scala ufficiale... ...cercare di crescere... ...se poi ci sarà... ...noi oggi diamo un segnale... ...eh... ...che... ...oltre alla... ...a... ...fatta l'ossessione per la vittoria... ...abbiamo... ...dietro a che lo può scegliare solo... ...io scelto solo il pomeriggio... ...io comunque... ...ok... ...o che... ...Prendano... ...danno... ...una persona che... ...il 2016... ...ma adesso come ti poni? ...ma... ...aspetto a quanto potessero fare nella scorsa stagione... ...al di là del fatto che comunque la gara del sabato... ...quindi... ...è in grado di poter avvicinare con i piloti... ...e macchine... ...innovate anche la ricerca di giorni... ...molto interessante che gareggerà il Peugeot Competition... ...questa... ...ma... ...como verrà? ...e già... ...in marzo... ...quole il Peugeot Competition... ...esanato... ...frutture di pneumatici... ...o anche... ...una chance incredibile come quella di gare... ...le sei gare del campionato Junior... ...con il premio finale che ho appena citato... ...dovedosa puntualizzazione... ...il campionato italiano Junior... ...non si collegherà su otto gare... ...se tanto su sei... ...però... ...Carlo da quest'anno... ...i vostri piloti Junior... ...sono all'interno anche dell'ACI Team Italia... ...diciamo anche un applauso a Anna... ...perchè... ...perchè... ...però le segna di che cosa? ...di come legge sul divano... ...e poi? ...ma diciamo di serenità... ...siamo stati tanto a sciare... ...ci piace la montagna... ...ci siamo rinfrescati le idee... ...che è una bella cosa... ...i apprezzo molto questo... ...questo atteggiamento... ...con l'apprenti di Palo... ...che è positivo... ... ...la stampa... ...la stampa... ...la stampa... ...diciamo... 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 ... ricordandovi... ...l'appuntamento per il prossimo... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Ciao.